Ciao ragazzi, eccoci con la sesta parte di Knights of Azur, o Yorono Ikuni. Molto bene, nella scorsa parte è accaduta una cosa molto interessante, ovvero abbiamo scoperto l'esistenza di un libro nero che sembra contenere il segreto per riuscire a sigillare il Signore della Notte, però questo significa andare contro gli ordini della Curia e quindi impedire, cercare di impedire egoisticamente tra virgolette da parte di Arnis il sacrificio di Lilis, anche perché, come abbiamo capito, ormai nei giochi giapponesi per fare una cosa importante bisogna sempre sacrificare se stessi. Comunque mando alle ciance e vediamo che dobbiamo fare. Io non ne ho la minima idea, vediamo se abbiamo delle missioni interessanti. Intanto attivo una missione di urna così prendiamo anche un po' di libra. Intanto le missioni di urna ragazzi, non c'è un modo per eseguirle. Quando siete fuori di notte e fate le missioni ve le finisce automaticamente. Bene, andiamo nella mappa. Ok. Qua c'è un punto esclamativo. Noi dobbiamo... Ah sì, dove siamo andati l'altra volta, solo che questa volta dobbiamo andare da questa parte. Bene, allora andiamoci direttamente. Andiamoci direttamente così non perdiamo tempo di fare giri inutili. E infatti questa volta ci dovrebbe aprire quello. Ok, dove sarà? Ok, mi ero già dimenticato di evocare i miei cervon. Questa bella roba. tra l'altro io sono ancora a livello 4. Dovrei decidermi a fare qualche missione al di fuori della registrazione per potenziarmi. Ah, siamo subito qua. Bene. boss. Bene. Finalmente un po' d'azione. Nuova area. Che musica abbastanza epica. Ah, giusto, è vero. Dobbiamo cercare... Ah, giusto, ecco, scusate. Il libro nella scorsa parte era stato rubato da qualcuno di misterioso che da quello che suppongono tutti si pensa che sia stata Lilith stessa perché non vuole essere salvata. E si dice che questo demone sappia, conosca un incantesimo per sigillare il signore della notte. E siamo venuti qua a cercarlo. Cercarlo, cercarla. Quello che... Prendiamolo con una bella super. Non li ho finiti, però. Sono solo a livello 3, sui stronti, eh. Oh, ancora, ce n'è uno. Ricordatevi sempre, ragazzi, di raccogliere il sangue e di usare le abilità dei vostri servanti. Avete rotto i coglioni, eh. Facciamo queste pattine qua che sono bastardo. Io volevo soltanto andare qua. Bene, la strada... io non ho assolutamente idea di quale sia quella giusta. Prima vorrei provare a procedere da questa parte. Anche perché è quella più vicina. Guarda qua. È distrutta. ancora viva. Ah. E mira sempre il nemico sbagliato. Mi raccogli, attaccatela però, eh. Ok, dice... Ah, non ci può andare più. Quindi bisogna andare per forza di qua. Per prima. E non dimentichiamo che mi manca sempre il tempo. Ma io alla fine, ragazzi, tendo sempre... tendo sempre a visitare durante la missione queste zone abbastanza velocemente. È giusto la scusa per arrivare a capo e alla fine della zona. alla fine della zona e al capo della missione. Ragazzi, sciate un po' più aggressivi però, eh. se no, qua non se ne esce più. Oh, sto perdendo tanto di quel tempo soltanto con questi. Ah, cosa ci fa qua? Beh, giustamente anche loro possono girare. Non è che sono prigionieri dell'hotel. Eh, in effetti questi qua sono già a livello... a livello 4. Sono pari a me. Mi hanno ucciso anche alla patina. Vediamo queste due spade che sono leggermente più potenti. E' più veloce, non più potenti. Inoltre fanno un attacco... fanno un attacco diretto che è molto forte. fanno un attacco diretto. Ok, aspetta, un po' non ci passa. Dai, venite a distruggere questo, che falle. E questo che cacchio è? molto male. Madonna. Ma... qua veramente mi tocca aumentare il mio livello perché... faccio fatica a battere questi. Per fortuna che questi fanno ancora schifo... e sono anche gestibili. lì c'è la porta. Beh, meglio così posso azzerare anche il tempo che ne ho perso abbastanza. Io come al solito lo attivo. Ok, ragazzi, eccomi qua. Sono tornato. Ovviamente vi taglierò tutto quello che ho fatto. Anche perché mi sono un po' rifornito di oggetti. Niente di interessante da vedere. E come vedete... mi ha anche riazzerato il timer. Bene, dove siamo? Andiamo. E non dimentichiamoci che qua c'è anche un boss. Sono queste due bambinette volanti che sono un po' in pericole. E' meglio massacrarle. Non ho visto bene cosa è successo ma sono stato colpito. Ne ho anche collezionato un po' di sangue. Dopo devo andare a fare un giro dalla Vergine di Hort perché così saliamo anche di un livello. Credo che mi serviva... Mi serviva 8000 per salire. E muori! Vabbè ragazzi, se è rimasto qualcuno lasciatelo. Andiamo avanti. Ma non lo sai! Cuomo! E' meglio... E' meglio... Si è già morta! Ma non lo sai Questa qui Lasciatela pure A qualcun altro Ma cazzo Capisco tutto eh però Io quasi dopo ragazzi Mi cambio il deck e mi metto Al posto di Al posto di Come cazzo si chiama Di Sofia Mi metto il lupo Perché almeno Mi attaccia Sono arrivato sopra le scale Che adesso sono aperte Che cazzo è una tigre Ah cazzo 700 di bonus di sangue Guarda E mi hanno ammazzato la fatina Bene Vabbè con più sono forti Con più mi daranno una bella ricompensa Quando finiremo tutto Io ero venuto qua giù Soltanto per prendere lo scrigno Maledizione Guarda guarda Qualcosa è cambiato Sempre quel gatto nero Com'è fatta a capire? Ok aspetta eh Ok aspetta eh Aspetta che ho perso l'orientamento Dove cavolo Ah siamo qua Ok Ehm Quindi dobbiamo andare per forza dentro la porta Ci sarà il boss Ah ok Questo è il demone che stavamo cercando Chris Ah è quella di prima Ah ci sta spiegando che l'unione tra umani e esseri umani e demoni ci rende più forti Come si permette un mezzo sangue di negoziare con un sangue puro come me? Eh vuole solo sapere come sigillare la notte Lo stiamo chiedendo da umano? Si Ma perché cambia voce E' inquietante Ecco ci mette anche alla prova E chi cacchio è Yojimbo Versione 700 europeo E' un uccellaccio Ok Mettiamoci in demon form Intanto mi sto facendo abbastanza male Coppiamola con la super il più possibile Quello che stavo per dire Stiamo attenti che ci ha sigillato tutti Anche quelli dell'altro gruppo Che stiamo lì lontano Che cazzo mi ha indicato Oh ecco Dai Sì ma Ecco posso entrare nel raggio d'azione Stiamo molto attenti Stiamo molto attenti Settevone Settevone Ancora 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 No No Cazzo me lo son preso in pieno Spero di non essere morto No quasi Ancora 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 Per me Dobbiamo stare Un pochino Attenti Ma è fattibile Mi devi mirare quello grosso però Molti Oh Ok Ce l'abbiamo fatta Oh Quanto sangue Modell Church Chissà cos'è Dopotutto non siamo semplici umani Veramente il sangue ci serve per potenziarci Io sono io Non è un uomo Non è un uomo Non è un uomo Non è un uomo Esatto, sono qui solo come me stessa Allora, mi chiedete Dove sei a chi è che il Signore della Notte? Il Signore della Notte? Il Signore della Notte E quindi, il Signore è un tempo E anche il Signore della Notte Il Signore della Notte È un'attività di una notte Non è possibile Fino a quando i giorni della vita umana Consisteranno nel ciclo Giorni e Notte Sarà impossibile impedire L'avvento della Notte Sì, quindi comunque I puro sangue possono sopravvivere solo nell'oscurità È una bella scelta Perché comunque Magari non tutti i demoni sono Cattivi Nel vero senso della parola Ah, quindi il Signore della Notte Va al di là comunque Delle due fazioni Che sta succedendo Ah, praticamente Praticamente nel suo sangue Il suo sangue gli impedisce di Tradire il Signore della Notte La Notte non può essere Sigillata Ma può essere solo sconfitta Chi è questa Corrin? È un altro pezzetto di Luna Si è sbloccato Vuol dire che Non manca tanto Ciao, ho detto Sì, sopra Si, sono stati Mi domani Eh, sì Sì, insomma Sì, ok Si, si è sbagliato Sì, è un amico È un amico È un amico Se non lo so Si capisce Allora, non si A me Se non ti Non mi chiede Eh, mini La notte Ma andiamola a trovare e poi chi saranno questi suoi amici e poi si 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 Cosa? 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 Non lo so! Mi sono capace di cosa pensare! Cosa sta succedendo? Ci hai ragazzo con i amici? Hai ragazzo? Non lo so... Non lo so... Non lo so... E' un po' di amici... E' un amico... E' un po' di amici? Ruliu... Mi sento... E' un po' di amici. E' un po' di amici... E' un po' di amici... Insomma, Arnis, lei non vuole essere salvata. Nooo... Beccato! Beccato! Sono proprio degli spioni. E' un po' di amici. 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 Quella cosa? Allora, non c'è nulla, non c'è nulla. Se l'uomo è il Dio, il Maio è il Dio, ma io ti proteggerò. C'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla. Perché... è un amico. Tu... è una baca! Rulitis... come... non lo sapeva che sia usata. Rulitis è una baca! Tanto questi due qua sono sempre qua a fare una fava. Che freddezza. Ma fa sempre più schifo. Esatto, non ficcare il naso dove non devi. Lui pensa solo all'hotel. Capitolo 3 completato. Vediamo quanto abbiamo preso. Siamo saliti. Neanche un potenziamentino. No Sofia non è salita. No aspetta. Facciamo gli SP. Ok. Intanto abbiamo completato anche questa attività di urna. Un bel po' di soldi anche. Ok. Giustamente abbiamo completato tutto. Ok qua ci sono un bel po' di eventi. Io vado un attimo su dalla nostra Vergine di Yort. A potenziarmi. Ok ragazzi. Mi mancano veramente pochissimo sangue. Dovevo arrivare a 13.000. Guardate quanto cavolo mi manca. È incredibile. Solo che non mi fa neanche uscire dalla porta. Perché ci sono tutti questi eventi in corso. E quindi. Niente. Devo fare per forza qualcos'altro. Beh. Guarda. Ne approfitto per stoppare la parte qui. Prima che diventi lunga come al solito. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito. Vi do appuntamento con la prossima parte di Yorun Naikuni. Ciao a tutti ragazzi.